Vai alla pelliccia, vai! Grazie a te per la pelliccia! Andatela! Questa è la pelliccia! Questa è la pelliccia! Questa mattina? Eh veramente! La mia idea è che... ...dia cosa! Oh, qui c'è una pelliccia! Guarda che bella pelliccia! Questa è la pelliccia! Questa è meglio! Eh... Ah, è sciato! ... ... Grazie a tutti.